Il governo irlandese lancia una nuova politica nazionale sulle isole offshore, con succosi aiuti per l'edilizia per stimolare la crescita demografica. Il progetto, destinato a 23 isole, è stato lanciato dal ministro per lo sviluppo rurale comunitario sull'isola di Arrainmore, a largo della costa occidentale della contea di Donegal. Le limitate opportunità di lavoro, lo scarso accesso ai servizi pubblici e sociali, la mancanza di alloggi hanno inibito la crescita della popolazione. Grazie